Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo un'anticipazione che probabilmente quando uscirà il video sarà diventato ufficiale. Questa è la seconda maglia dell'Olanda in edizione Player. Grazie per la visione! Niente male, bello il tessuto di Nike, diverso, un pochino diverso dal solito della versione Player. Bello questo colore, le rifiniture orange ovviamente, l'Olanda ha questi colori. Devo dire veramente fatta bene, con dei buoni tempi di spedizione. Questa è arrivata in 19 giorni. Il costo, l'avete visto, molto basso, ottimi tempi quindi di spedizione. Che altro aggiungere? Vedete voi nelle descrizioni di andare a vedere queste ed altre bellissime maglie. Prima di lasciarvi la parte finale, mi raccomando, nei commenti aggiungete cosa ne pensate della maglia e quale altre maglie vorreste vedere. Per oggi è tutto, alla prossima!